me lo dicevano, non so, questi stanno litigando, ci sono due piccioni che stanno litigando allora dicevo, me l'avevano già chiesto senza esagerare 20 anni fa, 20 anni fa me l'avevano anche più di 20 anni fa e avevo rifiutato, però adesso è giunto il momento di accettare e abbiamo deciso con Maurizio di andare a Sanremo, sono molto contenta, Maurizio come ti senti ad andare a Sanremo? Io sarò emozionatissima, perché ci sarà la RAI, ci saranno tanti giornalisti a livello nazionale, tante televisioni, conosceremo i cantanti originali, ecco e io interpreterò la mitica Maria Carta, Maria Carta, bene bene bene, seguiteci quindi...